In questa lezione continuiamo a parlare delle sezioni cilindriche in proiezioni ortogonali e vediamo stavolta come determinare le sezioni generate da un piano proiettante che interseca un cilindro. Negli esercizi solitamente proposti possono presentarsi due casi, piano proiettante in prima proiezione, cioè perpendicolare al PO, e piano proiettante in seconda proiezione, cioè perpendicolare al PV, e a seconda di quale sia il piano proiettante in questione, la sezione cilindrica generata può risultare molto diversa. Cominciamo prima, poiché è il caso più frequente, a vedere cosa accade se il piano secante è un piano proiettante in PV. In questo caso, vale la pena di considerare cosa accade anche nel terzo piano di proiezione, cioè sul PL. La sezione cilindrica generata sarà un'ellisse, che riusciremo a vedere tutta intera, solo nei quadri di proiezione dove il piano che taglia il cilindro è genericamente inclinato, e quindi sul PO e sul PL. Intera, ma non in vera grandezza. Quindi, una volta determinata la sezione cilindrica generata dal piano, dovremo preoccuparci anche della determinazione della sua vera grandezza. Determineremo l'ellisse di sezione molto facilmente. Come si vede, la seconda traccia del piano proiettante taglia il cilindro in tutte le sue generatrici, ma ad altezze differenti. Quando il piano secante era un piano orizzontale, invece, le generatrici venivano tutte tagliate alla medesima altezza. In particolare, a noi ne bastano quattro, le due generatrici più esterne e le due generatrici centrali, una davanti e una di dietro, che in seconda proiezione risultano sovrapposte. In prima proiezione, queste quattro generatrici corrispondono a punti sul bordo della circonferenza di base, la cui posizione esatta sappiamo ritrovare facilmente, grazie alle rette di richiamo condotte dalle seconde proiezioni delle generatrici. I punti in cui il piano proiettante taglia il cilindro in prima proiezione si trovano dunque in corrispondenza dei punti che rappresentano le prime proiezioni delle generatrici. Questi punti individuano un cerchio, coincidente con il cerchio di base. Vista dall'alto dunque, in prima proiezione, la sezione cilindrica ci appare come un cerchio coincidente con le basi del cilindro. Vista di fronte, in seconda proiezione, essa ci appare invece come un segmento coincidente con la seconda traccia del piano e compreso all'interno delle due generatrici esterne del cilindro. Riportiamo facilmente i punti di sezione in terza proiezione, sapendo che tali punti conservano le altezze della seconda proiezione e gli aggetti della prima. Questi quattro punti individuano l'asse maggiore e l'asse minore dell'ellisse di sezione. Come sappiamo, perché lo abbiamo già visto in un precedente video, quattro punti non sono però sufficienti per tracciare un'ellisse. Ne occorrono altri quattro, che potremo ricavare senza difficoltà grazie alla costruzione per atto punti dell'ellisse. Tale costruzione è illustrata passo passo in un video precedente di questo canale YouTube. Ora, se immaginiamo che in seguito al taglio provocato dal piano la parte superiore del cilindro venga rimossa, la sezione trovata resta disegnata in linea marcata e continua in tutte e tre le proiezioni, in quanto visibile. Dovremo invece tracciare in linea continua e sottile la parte superiore del solido in seconda proiezione e in terza proiezione, in quanto non più esistente. Rimane tracciata sul disegno, in quanto esistente prima del taglio, però le sue linee diventano linee di costruzione e non più linee reali. Se invece non vogliamo rimuovere la parte superiore del solido, le sue linee restano invariate. La sezione, in prima proiezione, continua ancora ad essere in linea marcata e continua, ma solo perché coincidente con la base superiore del cilindro, ma non lo sarà in terza proiezione, dove riusciremo a vedere solo la metà più a sinistra della sezione. La metà più a destra sarà invece nascosta e quindi la disegneremo in linea tratteggiata. Ora, differentemente da ciò che accadeva quando il piano era orizzontale o verticale, la sezione ottenuta non è stavolta in vera grandezza. Per poterla determinare, occorrerà eseguire un ribaltamento del piano proiettante, o rispetto alla seconda traccia, in modo da riuscire a vedere la sezione in vera grandezza sul PV, o rispetto alla prima traccia, in modo da riuscire a vedere la sezione in vera grandezza sul PV. Di questo argomento abbiamo però già avuto modo di parlare in un video precedente, che potete ritrovare all'interno di questo canale YouTube, e nelle dispense relative alla determinazione della vera grandezza di una sezione sferica generata da un piano proiettante, ragion per cui possiamo tralasciare questo argomento in questa sede. Ci manca ancora di vedere come determinare lo sviluppo del cilindro una volta avvenuta la sezione, se immaginiamo di tagliare la superficie laterale del cilindro lungo una sua generatrice, e poi di svilupparla. Ma questo sarà argomento della prossima lezione, che quindi è da non perdere per concludere l'argomento. Il link è comunque presente nella descrizione del video. E non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante, questo permetterà al canale di crescere e mi darà l'entusiasmo necessario per caricare tanti altri nuovi video didattici.